Buon pomeriggio a tutti, domenica è il 25 di novembre 2018, sono le 16.30, diretta domenicale. Io mi scuso se tiro su col naso, ma sono influenzato, senza febbre, ma diciamo abbastanza distrutto. Questa è la ragione per la quale la diretta di ieri di sabato non è andata in onda, ero sostanzialmente disteso a letto con la borsa del ghiaccio in testa, come succede in questi casi. Ma insomma, sono abbastanza in piedi da poter essere online con voi quest'oggi e spero anche di riuscire a tornare a Roma domani perché si annuncia una settimana parlamentare molto intensa. Prima di entrare nel vivo della nostra diretta, naturalmente come al solito saluto mia sorella Vanessa che è online, almeno la famiglia mi segue, questo va bene, una buona notizia. Naturalmente come al solito vi prego di pigiare sulla freccetta condividi in modo tale che il nostro incontro possa essere il più partecipato possibile e poi naturalmente sapete che subito dopo la diretta metto il video che ne resta sia su questa pagina Facebook, sul mio canale YouTube, che sul blog Ivanscalfarotto.it in modo tale che chi non è riuscito a vederci in diretta possa vederci più avanti. Devo dire che mi scuso anche per se negli ultimi tempi sono stato un pochino meno continuo in queste dirette ma le giornate in Parlamento sono state veramente intensissime e magari ne parliamo anche un momento durante questo nostro incontro domenicale di oggi. Però in realtà io non voglio cominciare se non ricordando che oggi 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, non ho un segno rosso sulla faccia ma come se l'avessi e credo che sia ancora un tema molto molto importante e molto irrisolto per la nostra società. È incredibile ogni volta che leggiamo sui giornali che un uomo che in teoria avrebbe dovuto amare una donna l'ha uccisa perché è stato lasciato o per motivi d'altro genere che poi tutti però si riassumono in un senso di proprietà che evidentemente molti uomini pensano, sentono ancora nei confronti delle proprie donne per cui se le donne li lasciano meglio che muoiano o che muoiano i bambini. Adesso avete sentito qualche giorno fa, credo a Mantua, di questo caso, di questo bambino che poi è rimasto chiuso in casa, in una casa incendiata dal papà che aveva appunto lasciato la mamma insomma cose veramente da pazzi ed è secondo me non soltanto il segno di una violenza molto forte che esiste ovviamente nella nostra società e questo lo sappiamo ma ripeto anche di un cambiamento culturale che ancora non si fa sufficientemente strada. Io devo dire che ancora mi indigno e mi sorprendo quando mi capita di fare eventi politici e di trovare una sfilza di uomini che parlano e nessuno si pone il problema che non ci sia una donna tra di loro sembra poi quando si solleva il problema che sia sempre un problema di secondaria importanza come se uno si occupasse di cose futili dice ma insomma adesso se non c'è una donna che problema c'è, ci siano i più meritevoli poi nessuno si chiede come mai poi i più meritevoli siano sempre uomini posto che statisticamente non è possibile che i più meritevoli siano sempre uomini non è proprio, non ci stiamo con i numeri segnalo e di questo mi dispiace che anche nel prossimo congresso del mio partito abbiamo un numero di candidati molto nutrito ma non c'è nessuna delle nostre colleghe che appunto si presenta come segretaria del partito qui a Milano abbiamo eletto Silvia Roggiani come segretaria metropolitana ne sono molto contento ma penso che una rappresentazione della società nella quale le donne non trovano posto è semplicemente una rappresentazione falsa non realistica, non vera della società e per un partito questo è un problema perché dato che noi aspiriamo a governare questa società e a guidarla se non assomigliamo alla società che vogliamo guidare questo è un grosso guaio secondo me quindi lo sottolineo con rammarico, lo faccio in questa giornata nella quale naturalmente si parla di violenza, non si parla di sottorappresentazione politica delle donne però io penso che le due cose stiano vicine tra l'altro segnalo questo tweet orribile del ministro Fontana che dice che la violenza contro le donne e le persone vulnerabili deve cessare questa assimilazione, questa equazione, questa identificazione delle donne con le persone vulnerabili che fa il ministro Fontana lo qualifica per quello che è cioè una contraddizione in termini Fontana non è soltanto un ministro inadeguato semplicemente inadeguato come possono essere Toninelli o Lalezzi Fontana è uno simoro vivente e il fatto che lui parli appunto di donne e persone vulnerabili come se le donne fossero una categoria di persone vulnerabili dimostra ancora una volta che il buon Fontana non capisce una cippa diciamo delle cose di cui dovrebbe occuparsi pazienza, questo è il nostro tempo altra cosa che vi volevo dire i nostri comitati di azione civile io vi ricordo che il sito per aprire un comitato è comitateritornoalfuturo.it abbiamo messo online tra l'altro l'elenco di tutti i comitati che si sono formati o che si stanno formando per cui se volete provare diciamo non magari non costituire voi stessi un comitato ma volete aderire a un comitato trovate nella pagina comitati del sito tutti i comitati già aperti potete anche contattare i coordinatori attraverso un form che vi consente appunto di chiedere eventualmente di aderire a questi comitati sapete che l'altra settimana sono stato a Torino per una prima presentazione il primo dicembre sabato prossimo sarò a Mestre per un'altra presentazione dei comitati e probabilmente il 3 di dicembre che sarà lunedì sera del tutto probabile stiamo lavorando poi ve lo confermerò a una riunione dei comitati romani e del Lazio a Roma quindi lunedì 3 dicembre mentre il sabato 1 dicembre l'appuntamento è a Mestre sempre per i nostri comitati vi ricordo appunto di andare a visitare il sito che è comunque interessante comitateritornoalfuturo.it e se avete voglia di costituire un comitato di parlare con i vostri amici bastano 5 persone io penso che sia un bel modo di fare politica e soprattutto di concentrarsi su quelli che sono i temi che oggi occupano l'agenda politica e che sollevano molte preoccupazioni e quindi riappropriarsi del proprio impegno civile anche in prima persona è secondo me un'urgenza in questa fase politica e quindi davvero vi invito a contattare i vostri amici le persone che conoscete e costituire un comitato anche nella vostra città comitateritornoalfuturo.it costituisci un comitato lì c'è la pagina, le istruzioni per poterlo fare tra l'altro voglio segnalare a proposito delle complessità politiche di questo periodo quindi delle ragioni per le quali i comitati si sono costituiti che sono quelli di salvaguardare e di proteggere quei valori che abbiamo sempre ritenuto valori condivisi valori democratici che erano parte del nostro vivere civile comunque la si pensasse quei valori oggi sono sotto attacco la democrazia, l'Europa, la scienza, il dato scientifico insomma leggere i giornali si capisce che questo governo sta mettendo nel mirino valori appunto che sono stati finora le regole di tutti che si fosse di destra o di sinistra e oggi sono diventate mere opinioni e segnalo il fondo che ha scritto ieri il giudice Zagrebelsky che appunto si è molto allarmato ed è molto allarmato per la deriva che il paese sta prendendo è un allarme che condivido francamente il fondo di Zagrebelsky su Repubblica di ieri mi ha lasciato molto perplesso perché io ricordo essendo stato il sottosegretario delle riforme costituzionali nel governo Renzi e quanto Zagrebelsky e persone come lui ritenessero che il lavoro che stava facendo il governo Renzi il Partito Democratico fosse il segnale di una deriva autoritaria di un degrado della democrazia siamo stati accusati di ogni nefandezza da persone come Zagrebelsky che però oggettivamente hanno aperto la porta e hanno spianato la strada al governo che c'è oggi perché è evidente che le posizioni di persone come Zagrebelsky che appunto dava a noi ci accusava di essere autoritari hanno sicuramente spalancato le porte e promosso la crescita in particolare del Movimento 5 Stelle ma anche della Lega il fatto che oggi ci si accorga che c'è questa deriva tra l'altro Zagrebelsky giustifica il suo silenzio fino ad oggi dicendo che quando la situazione diventa così grave non sono i costituzionalisti a dover parlare ma altro tipo di studiosi, di scienziati io invece trovo appunto che la sovraesposizione che Zagrebelsky e persone come lui ebbero durante la riforma costituzionale durante l'epoca del referendum e le tesi che sostennero erano tesi assolutamente esorbitanti allarmistiche io francamente pensare a persone come appunto Matteo Renzi, Paolo Gentiloni Roberta Pinotti Carlo Calenda Beatrice Lorenzin le persone che erano al governo come persone che volevano stabilire uno stato neoautoritario in Italia trovo che sia abbastanza risibile e però penso che la responsabilità della situazione in cui ci troviamo oggi sia anche di questi metra pensè che appunto secondo me urlarono al lupo al lupo in quel momento il cui al lupo al lupo di oggi diventa molto meno credibile perché a questo punto sembra che ogni qualvolta c'è un governo Zagrebelsky pensi che ci sia una deriva autoritaria ora ecco e confonde questo e quello in un modo secondo me molto colpevole e quindi ho letto questo articolo insomma e devo dire un po' la verità mi è venuta l'orticaria ma insomma capita anche questo diciamo che quando leggo i giornali mi viene ben peggio che l'orticaria quando leggo di Salvini e di Di Maio diciamo che l'orticaria e Zagrebelsky ho potuto gestirmela a parte l'influenza un'ultima cosa io tra l'altro mi scuso perché l'ultima diretta l'ho fatta da Montecitorio e ahimè si sentiva poco cioè alcuni sentivano altri non sentivano ma l'ho fatta con le cuffiette pensavo che tutto fosse ok invece non era così e quindi è doveroso qualche cenno sulla settimana parlamentare è stata una settimana estremamente intensa anche per questo appunto sono stato poco ho fatto poche dirette abbiamo avuto in particolare questo momento topico di un voto segreto sul decreto anticorruzione nel quale il governo e la maggioranza sono andati sotto e sono andati sotto di oltre 50 voti secondo me è un segnale lo dico subito un po' scherzando tra me e me pensavo che andare sotto dopo sei mesi al primo voto segreto è un po' come andare al ballottaggio di X Factor vuol dire che presto tardi si esce lo dico scherzando ma in realtà è così se al primo voto segreto la maggioranza si è schiantata vuol dire che non è così forte vuol dire che evidentemente ci sono delle dinamiche all'interno che sono chiaramente dinamiche sulle quali è difficile anche costruire un rapporto di fiducia è evidente che Lega e 5 Stelle stanno portando avanti due disegni di legge ciascuno dei quali interessa all'altro ma che l'altro diciamo l'altro vede con sospetto e quindi il decreto anticorruzione riguarda il momento 5 Stelle ma la Lega lo guarda con sospetto il decreto sicurezza e immigrazione riguarda la Lega ma il momento 5 Stelle lo guarda con sospetto quindi cosa fanno cercano di portarli parallelamente avanti io ti voto il tuo tu mi voti il mio ma è chiaro che ci sono dei grandissimi mal di pancia all'interno dei due soggetti politici per cui io dubito che questa cosa possa durare molto a lungo ripeto se dopo sei mesi al primo voto segreto importante si va sotto in quel modo con 50 voti di differenza tra l'altro anche i voti palesi che avevamo avuto quella giornata erano stati già significativi perché la maggioranza aveva più o meno dieci voti di vantaggio quindi era evidente che c'era il rischio che andassero sotto e questo secondo me segnale una tensione politica e un disaccordo politico estremamente importante che io diciamo sono sicuro che riemergerà in altre situazioni vedremo come andrà ma già la legge di bilancio sarà un banco di prova interessante anche perché sapete che lo spread continua a salire la settimana scorsa la settimana che è passata siamo arrivati fino a 335 punti sono oltre 5-6 miliardi di maggiore spesa per l'interesse sul debito e sono 5-6 miliardi che vanno tolti da altre spese questo deve essere molto chiaro non è che lo Stato i soldi li inventa i 5-6 miliardi che bisognerà dare agli investitori che detengono il nostro debito pubblico andranno sottratti alla spesa sociale la spesa per sicurezza la spesa per la scuola per la formazione alla spesa sanitaria e quant'altro quindi sono soldi che saranno letteralmente tolti dalle tasche dalle tasche degli italiani un'ultima cosa ecco che forse volevo raccontarvi è appunto il fatto che il sottosegretario Spadafora che è il sottosegretario alle pari opportunità ha qualche giorno fa riunito questo tavolo delle associazioni del movimento LGBT quindi le associazioni che tutelano proteggono e difendono i diritti delle persone omosessuali transessuali bisessuali trans e dopo pochi giorni alcune sigle che erano sedute intorno al tavolo tra cui il circolo Mario Mieli le famiglie Arcobaleno e altri hanno firmato un documento nel quale gli dicono scusi signor sottosegretario ma ci faccia capire una cosa ma lei riunisce questo tavolo LGBT nel quale ci parla moltissimo delle sue opinioni e del fatto che secondo lei le persone LGBT devono essere protette e ci vuole una legislazione progressiva al loro favore ma poi come fa lei a essere parte di un governo del quale fa parte il ministro Fontana del quale fa parte il senatore Pilon di una maggioranza che elegge come presidente della commissione di diritti umani una senatrice che è indagata per istigazione dell'odio razziale come è possibile tutto questo dov'è la coerenza e il senatore diciamo il deputato dell'onorevole Spadafora appunto sottosegretario alle pari opportunità ha risposto con una intervista ieri a Repubblica nella quale dice sostanzialmente io in questo governo ci sto turandomi il naso ora io vorrei dire al sottosegretario Spadafora che non c'è nessuna necessità che lui si tappi il naso per stare al governo perché sono sicuro che non c'è nessun medico nessuno specialista che gli abbia ordinato di avere una poltrona a Palazzo Chigi come sottosegretario della presidenza del Consiglio dei Ministri quindi se proprio in questo governo ci sta tanto male se proprio come giustamente lo capisco è in disaccordo con Pilon e con Fontana e con la senatrice Pucciarelli presidente della commissione diritti umani pur essendo indagata per istigazione dell'odio razziale l'onorevole Spadafora ha una sola cosa da fare che è quella di dimettersi dal governo del quale è sottosegretario non c'è bisogno di turarsi il naso politicamente non ci si tura il naso politicamente si prendono le distanze da persone come Fontana Pilon e Pucciarelli e si dice io non sono d'accordo lascio stare e mi dissocio politicamente dal governo del quale faccio parte dando le dimissioni invece questa è caro Spadafora una posizione del tutto ipocrita che lascia il tempo che trova il fatto che lui che lei caro Spadafora tenga delle posizioni che sono completamente contrarie a quelle del suo governo è illogico dal punto di vista politico e incoerente dal punto di vista personale quindi mi ascolti se vuole fare una cosa giusta si dimetta e tutti quanti applaudiremo al suo gesto io mi fermo qui perché penso di aver preso più tempo di necessario 16 minuti quindi ho sforato di un minuto domani appunto viaggio per Roma influenza permettendo ma spero di esserci di fare in tempo anche a fare la mia diretta quotidiana domani abbiamo probabilmente un voto procedurale appunto arriva alla camera il decreto sicurezza poi arriverà più avanti la legge di bilancio quindi sarà un mese di dicembre estremamente intenso io mi fermo qui naturalmente ringrazio tutti coloro che sono stati qui ad ascoltarmi vi ricordo per favore di condividere questo video che tra poco resterà sul mio canale youtube sulla mia pagina facebook e sul mio blog ivanscalfroto.it e vi auguro una eccellente domenica sera a presto ciao